Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, finalmente dopo un mese, dico un mese letteralmente, pubblico la seconda parte del tutorial su come giocare su Dueling Network insieme alla mia ragazza come avevo già anticipato che vi saluta Salve Scusate ma mi mancava l'aria Vabbè Come vedete appena entrerete nella modalità duello, chiamiamola così, vi appariranno le tre seguenti carte che rappresentano appunto la morra cinese E nulla da spiegare, chi vince la morra cinese sceglie se iniziare per primo o per secondo, vai, butta, scegli Faccio prima io? Eh, sì Fai prima tu Così facciamo vedere il next turn Ok Ok Ok, ha scelto le per prima Eh, peschiamo in automatico, pescherà le cinque carte Beh, il giocatore iniziale non pescherà, mannaggia la miseria le schermate qua Skype Allora Ora qui notate DP, SP, M1, BP, M2 e EP Queste rappresentano le sei fasi del gioco di Yuki DP sta ad indicare la draw phase, quella che è appena avvenuta Quindi passiamo in SP, ossia standby phase E poi se non abbiamo appunto effetti che si attivano in questa fase, passiamo in M1, ossia main phase 1 E qui possiamo giocarci le nostre carte, evocare, settare e vabbè, quello che ci è possibile E vabbè, basta, così vi faccio vedere un po' Ok Ehm, qui al posto di next turn, se siamo giocatori di turno ci sarà scritto end turn per concludere il turno Mentre, se l'avversario concede il turno, verrà scritto appunto next turn Cliccando qui Ehm, se abbiamo qui il segno di spunta su auto draw Che abbiamo cercato su Google il nome Perché non c'è venuto il termine Vabbè Pescherà in automatico Allora, io, come vedete qui, non Cioè, non cambia fase finché non lo dico io Cioè, non lo facciamo noi Ok, il mio consiglio è farlo sempre perché potete avere un disguido con l'avversario Dice, eh, ma tu non le hai attivate in main phase 1, non le hai attivate in altra fase Vabbè, cose così, poi tutti i litigi, chiamate l'admin, roba varia e vabbè Vabbè, io consiglio sempre di fare così Ok, non lo ho carte trappole in mano Però, vabbè, più o meno la stessa cosa, verrà scritto qui set Allora, analizzando il mostro che abbiamo in mano C'è scritto Normal Summon che sarebbe evocazione normale Set, posizionare S, summon, attacco, vuol dire evocazione speciale in posizione di attacco S, summon, def, evocazione speciale in difesa To, graveyard, vuol dire al cimitero To, top of deck, in cima al mazzo Vanish, bannata To, bottom of deck, in fondo al mazzo Reveal, rivela E, to, s, t Sarebbe nelle zone magietrappola Ora, io evocherò La, tu, ur Allora dice, io l'ho evocata Ma perché non si attiva l'effetto? Perché dobbiamo fare tutto noi Per farlo, cosa dobbiamo fare? Spostiamo il cursore sul mazzo E vi appariranno le seguenti Come posso chiamarle? Categorie o no? Opzioni Opzioni, ecco, esatto Draw, vabbè, pesca Shuffle, mischi il mazzo Mill, vuol dire macinare Ossia, mandare la prima carta del mazzo al cimitero Banish, t Vuol dire Banish, stop Quindi, banna la prima carta Banish, fd Vuol dire Banish, face down Quindi, la prima carta coperta Viev, vedi il mazzo Dice, che cazzo serve vedere il mazzo Se non si può fare, un attimo Dice, è show, lo mostro l'avversario E non vi consiglio di farlo Perché altrimenti sarete di coju Vabbè, clicchiamo su Viev Perché dobbiamo attivare l'effetto della tour Quindi, è legale farla, sta cosa È come in una partita reale Andiamo a prendere il mazzo Se si caricasse, ecco Questa è la lista del Chaos Control Che ho pubblicato ieri, mi sembra E andiamo a evocare il nostro mostro In vocazione di difesa, in questo caso Ok Ora, vorrete sicuramente fare un'evocazione Exit Quindi Vediamo qui 2 Graves, 2 Attack 2 Attack è per cambiare la posizione Bene Change Control Per, vedete Do il controllo all'avversario Ridammi il mostro, per favore È vero Change Control, 2 End Ce lo riprendiamo in mano Poi, che c'era più 2 Top Off Deck in cima al mazzo 2 Bottom in fondo Vabbè, e qua vedete Overlay Appunto per creare la rete di sovrapposizione Se si può dire così Qua vediamo l'Extra Deck Mettiamo il Dante Allora, per attivare gli effetti Vi consiglio sempre di scrivere qui nella finestra di chat Come vedete F per esempio Oppure questo Vabbè, invece se volessimo fare Che ne so Nevocazione Syncro Vabbè, ora faccio cose a cazzo Però Vedete Mandiamo i mossi al cimitero To Grave E Mandiamo Cioè Evochiamo da qui SS Attack Vabbè, qua è più o meno le stesse opzioni della mano E Per attaccare Ora come fare Vabbè, sposto il Dante in attacco Attiviamo l'effetto Essendo abituati Ecco qui Banish Vuol dire che Banniamo Se teniamo il corsore sul materiale Exceed Il materiale appunto E deticci invece che stacchiamo il materiale Quindi mettiamo l'effetto Immaginiamo tre Uno Due E tre Ok Ora per attaccare Come fare Semplicissimo Cliccate su BP E In questo caso non a mostri Attacchiamo direttamente Quindi In questa barra qui Ora Vabbè Lo segnerà anche lei Però vi mostro anch'io Questa barra qui Vi toglierete i vostri life points Dovrete fare tutto voi Qui Clicchiamo Se clicchiamo Cambieremo segno Quindi Con questi potremo aggiungerci i life points Non fatele Solite bagianate da bambini Tipo Aggiungo Tutti sti life points Evviva Sono immortale Non fatelo Perché E' veramente da rompico No mi sono zerato i life points Vabbè Vabbè Se vi ho zerato i life points Non accade nulla Finchè non cliccate admit Vabbè Continuando Queste icone qui Questa è per lanciare il dado Se ci sono effetti per dado Questa è per lanciare la monetina Che figa la monetina Che carina Questa è per evocare token E questa per mettere Tipo segnalini Su una carta In questo caso Mettiamoli su Dante Dato che ha macinato 3 Allora Se avete qualche effetto Che si attivi Nel end face Il mio consiglio è Non cliccare qui Pensi qui Quindi Per esempio Scarm Che si attiva Nel end face Andiamo ad attivare l'effetto Prendiamo Il nostro target in mano Sia la tour Quanto l'odio E Passiamo Vabbè In questo caso Rimuovo i segnalini Ok Ora la bestia della peschiera Setta una trappola così E anche un mostro Lo setto? Sì Sì Setto E l'altro lo evochi In attacco Giusto per far vedere Nel caso ci sono Mostri In Sul terreno Ok Lei si le Le ho fatto montare la nera Anche se odi aiuti Dice Eh Dislike La tua ragazza di aiuti Non è degna Di 96 No scherzo Vabbè Passa Vabbè Non ho fatto Main face Vabbè Sì Sì Giusto per far capire Vabbè Mo attivo pure questo Svegliamo 3 Send Drop Off Ma che cazzo Sottile Vabbè Per distruggere Che ne so Vogliamo distruggere La sua setta Lì Ovviamente Ripeto che Questa non si attiverà Cioè Non verrà scritto Sulla schermata Vuoi attivare in catena L'effetto No Dovremmo fare tutto noi Quando evocate un mostro Mi raccomando A scrivere prima Consiglio sempre Ok Vabbè Ok Summon is good Summon is good Nel senso Ho le vocazioni Riesce Sì No L'avversario Vi dirà Ok Yep Di solito Gli americani No Di solito Gli americani Si scrivano Yep Ora F Ok L'avversario Sempre Aspettate sempre Una risposta All'avversario A meno Che Non vi risponde Dopo 15 20 secondi Quindi Spostiamo in difesa Targettiamo La magia O la trappola Quella che è E l'avversario La manderà Al cimiterio Dato che Effetto di La fessa tua Oh scusa Tu eri la fessa Vabbè Mo Ipotizzando che Dante Abbia Ancora Maciniamo lo stesso Treva Sicurezza E Vanity GG Ok Ora Come fare Contro Se c'è un mostro In campo Allora La differenza Di prima Che c'era scritto Soltanto Attack Directly Ora Si sarà Giunta L'opzione Attack Quindi Attacchiamo Il mostro Per entrare Tipo Vogliamo attivare Un Kalut In damage Un honest Voi scrivete Tipo Damage Aspettate La risposta Dell'avversario Poi vi dirà Ok Attivate L'honest E Vabbè Questo E Una volta Risolto C'è una volta Che ci sarà stato Il calcolo Dei danni Quindi Quanto è 2005 Meno 800 Giusto Meno 800 Life points A te Manda Il borro Al cimitero Vabbè Attacco anche Con armades Giusto Per farvi vedere Vabbè Vabbè Manda al cimitero Ecco Mi conviene sempre Prima scoprire E poi mandare Ok Per posizionare Un mostro Come vi ho detto Basterà vedere qui Set Posiziona Per revocarlo Per scoperta Flip Zoom Quindi Niente di difficile Per ora E Vabbè End turn Faccio vedere così Non vedete Che non risolvo Gli effetti Tipo l'aila Che non maci Ne roba varia Ma vabbè Giusto per farvi capire E Cos'altro più Cosa ho dimenticato Di dire Penso Quasi nulla Regole Cimitero Vabbè Ecco le opzioni Qui Watchest chat Per tipo Se vi stanno vedendo Potete Cioè Il Spettatore Può tipo Scrivere qui Anche voi Vedete Vabbè In questo caso Non c'è nessuno LOL Ho scritto LOL in chat In questo caso Non c'è nessuno Però potete Tipo Scrivere al giocatore Che state Guardando Guardando Ecco Poi Admit Defeat Per ammettere La sconfitta After Draw Pareggio In Questa modalità Che abbiamo fatto Sia un rated Non c'è L'admin Però nel caso Siete in modalità Ranked Come cacchio si chiama Classificata Ecco Vi sarà qui L'opzione Con l'admin Perché se avete Problemi con l'altro Giocatore Tipo Voi Che ne so Catastor Contro Zemmenes Faccio un esempio Scemo Attacco Catastor Lui stacca solo uno Invece ne deve Staccare due Dato che Catastor Prima Attacca Poi si risolve Tutta la cosa Però l'avversario Dice No Non lo puoi fare Non è vero Si stacca solo uno Oppure Vabbè Non sa le regole Voi chiamate Tutta la community Di dwelling network E online user Sono tutti giocatori Online Questi in verde O in oro Sono gli admin E Che dire più Vabbè Faccio qua Banish Giusto per far vedere Per soddisfare La vostra curiosità Ah Ecco Altre opzioni Qui Shuffle Vedete Mi schiedete La mano Mentre Show Qua vi chiederà La conferma Se mostrare La carta Del proprio avversario Che dirvi più Vedete Sull'icona In questo Prima Sua Ora mia Tipo c'è scritto Via in Grave Per vedere Diciamo L'avversario Cosa sta facendo Quindi immaginiamo Di essere Come dire Il mezzo Di un duello In real E Vabbè Quitte Per chiudere La partita Però Nel caso Sarà Classificata Inciderà Sul vostro Punteggio In negativo Così anche Come una sconfitta Però In maniera Meno Critica Del quit E che devo dire Più Penso Nulla Vabbè In questo caso Vedete Ora si è illuminata La nuvoletta Perché mi hanno Contattato Ehm Penso di aver Detto Tutto Quindi se avete Ancora Tipo altri Dubbi Mi sono Dimenticato Di dire qualcosa Scrivete qui sotto Nei commenti Che Risponderò Il prima possibile Dato che sono quasi sempre online Su youtube E quindi ragazzi Ringrazio la mia ragazza Per aver partecipato A questo video Nonostante O di Yugi Niente Ehm Prossimi video Ripeto Il box di force of will E' arrivato Che apriremo Il 31 Gennaio Insieme agli altri Membri del team Ehm Niente Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Seguitemi sulla fanpage Di facebook Che è qui sotto In descrizione E niente Arrivederci al prossimo video